Lo tenga, maestà, se vuole. Io l'ho già tutta qui dentro. Come? Dopo un solo ascolto. Io penso di sì. Sì. Proviamo. Dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace. Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Va meglio, non le sembra? Sì. 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 Sì.